L'ex sindaco Secchi, come vede la situazione di Alghero oggi? Credo che ci voglia molta franchezza, perché è un momento difficile per la società in generale. Ma Alghero, rispetto a quelle che erano, forse anche pescaramanzia, usate come possibilità e potenzialità, oggi io credo che stia vivendo un momento difficile. Un momento difficile, soprattutto io mi sento di dire che la città la vedo poco governata, non avverto l'occhio dell'amministrazione sulla città e sui problemi della città. E quindi questo mi preoccupa e non faccio riferimento all'amministrazione in generale, ma dico a chi ha responsabilità dirette, in particolare l'amministrazione, ma anche il Consiglio Comunale e le istituzioni che lavorano in collaborazione con l'amministrazione comunale. Se lei fosse il sindaco oggi, quale sarebbe la prima azione che metterebbe in atto? Io credo che ci siano da sottolineare alcuni aspetti che avverto come priorità e come urgenze. In primo luogo una città che non è riuscita ad organizzare la viabilità del traffico e per una città turistica la mobilità urbana è un problema primario. Oggi naturalmente questo è conseguenza di tutta una serie magari di mancate decisioni e di iniziative non prese a suo tempo. Però uno dei problemi più grossi, mi sento di dire, è la mancanza dei parcheggi e poi di fronte a quello che io avverto sia il primo problema, sottraiamo parcheggi per concederli magari a suolo pubblico o attività più o meno commerciali, economiche di intrattenimento creando sicuramente un problema di sicurezza. Però nel secondo tempo anche creando un disagio alla mobilità interna, alla sosta, al parcheggio che crea conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Un secondo aspetto è quello che riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani e l'igiene urbana. Si è atteso troppo tempo per affidare il nuovo appalto, non c'è stato il coraggio di prendere la decisione quando doveva essere presa e affidare la nuova gestione. Quindi ci siamo trascinati troppo a lungo nel tempo i disservizi della precedente gestione e probabilmente oggi non si riesce a governare il nuovo appalto perché poco qualcosa, devo dire onestamente, è cambiato. Qualcosa si nota, alcuni mezzi e presenze in più dei dipendenti dell'azienda sulle strade, però alla fine la città continua a rimanere sporca. È difficile l'immagine complessiva che se ne trae da una continua presenza di bidoni di spazzatura, di cumuli di immondizie. È una città che vuole fare turismo e che spesso, impropriamente, è stato definito il centro storico il salotto buono della città. Io non credo esista a nessuna parte del mondo salotti dove si mettono in bella vista i bidoni della spazzatura e tutto quello che ne consegue con i bidoni della spazzatura. L'altro aspetto che mi permetto di sottolineare è che sicuramente io avverto che non c'è stato il governo di quello che è stata non solo la gestione del suolo pubblico con le concessioni indiscriminate che poi quest'anno mi sembra siano scappate di mano. Ma la situazione la riconduco a anni precedenti, quando l'ufficio tecnico per esempio, che è un aspetto che non colgo nelle dichiarazioni di nessuno, con estrema facilità, espresso anche in disprezzo dalle norme vigenti, ha attraverso il meccanismo del cambio di destinazione urbanistica destinato ad attività commerciale, quindi con la classificazione di locali commerciali, qualsiasi buco, grotta o antro del centro storico, senza badare alle dimensioni, all'accesso, perché i locali che poi devono essere destinati all'attività commerciale devono rispondere a una serie di requisiti, quindi le superfici, la vivibilità, l'ariazione, l'accesso senza scale e trabocchetti vari, la superficie da destinare ai servizi igienici che devono rispettare la norma. Questi sono tutti aspetti che poi fanno pagare ad Alghero un prezzo, che è quello di non essere attrezzata e organizzata per presentarsi come una città turistica. Probabilmente forse neanche una città che è in grado di raggiungere soglie di vivibilità e di civiltà che probabilmente potevamo raggiungere, ma che uno sbragamento totale ha messo al servizio forse di una categoria che ha avuto più di quello che altre non hanno avuto. Cioè al settore del commercio, con la scusa che devono lavorare, è stato concesso più di quanto andava concesso. Probabilmente anche a danno loro, non solo a danno della vivibilità e delle condizioni generali di vita di questa città. Se dovesse dare un voto all'attuale amministrazione, quale sarebbe e perché? Ma io non quantificherei i numeri. Io dico che è un'amministrazione che non è entrata nel vivo dei problemi, quindi non merita una promozione. Ed è un'amministrazione che io ho sostenuto. Forse l'ho sostenuta perché alla fine, come di solito si dice, cerchi il meno peggio. Però se questo era il meno peggio mi chiedo che cosa sarebbe stato l'altro. Ma in ogni caso io mi rendo conto e mi permetto di dire che chi si è posto all'attenzione dell'elettorato per governare questa città evidentemente non aveva idee e non conosce la città e non conosce i cittadini di questa città. Io vedo che i consiglieri comunali sono privi di idee e di proposta. Non entrano nel merito del dibattito praticamente di niente. Non assumono posizione sul niente. All'infuori di un chiacchiericcio generale, di un pettegolezzo generale, che spesso sono informazioni e notizie riportate. E penso soprattutto quando fanno riferimento a cose del passato. Sono cose che hanno sentito raccontare ma che non hanno una conoscenza diretta di quella che è stata la storia della città. Un aspetto per tutti. Era tradizione e non è una norma scritta che nel periodo estivo, diciamo il mese di luglio ed agosto, non si consentivano cantieri di nessun genere all'interno del centro storico. Questa era una tradizione consolidata e già l'ufficio tecnico preveniva la decisione delle amministrazioni comunali impedendo. Qui invece ognuno è libero di venire, montare un cantiere nel pieno del centro storico e farsi i lavori durante l'estate, quando la città deve essere accogliente. Deve essere accogliente e soprattutto per la pressione che ha di presenze, deve essere anche più snella nell'accogliere e nel consentire la mobilità, ma anche cantieri di opere pubbliche, perché non è ammissibile che a fianco alla torre di Sulis ci sia un cantiere che ha iniziato i lavori prima del Giro d'Italia e continua a essere lì un cantiere con un passo che neanche il sindacato tiene, tanto è cadenzato e letto. Sono tutti aspetti che non ci faranno morire, ma che sicuramente non giovano a questa città. Quindi questo è il segnale che danno questi amministratori che oggi parlano, parlano, io li vedo molto agitarsi e parlare e poi soprattutto è tutta gente che elabora posizioni o che assume posizioni elaborando pensieri autonomi o di piccoli cerchi perché purtroppo sono privi di quel consiglio che un tempo veniva dato ai consiglieri comunali dai dibattiti che c'erano dentro i partiti e che oggi più non ci sono. Di invece un consiglio a Mario Bruno da sindaco a sindaco? Ma da sindaco a sindaco mi sento di dirgli e gliel'ho già detto, però lui doveva essere, sono già passati tre anni. Mario Bruno è troppo temporeggiatore, è sempre pieno di slanci e di buone volontà, ma non è conseguente con gli slanci e le buone volontà. Lui dovrebbe essere più determinato, più puntuale e non ha fatto una scaletta di priorità. Lui su tutto insegue, va a ruota libera, probabilmente paga il prezzo di essere lui da solo o quasi a dover assumere decisioni e indirizzo. Perché non vedo attorno a lui chi possa dargli conforto di esperienze e di competenze, ma questa è una situazione che lui ha creato. Perché lui non si è avvalso di figure che gli avevano manifestato interesse e disponibilità a collaborare, sì li ha sentiti, ma poi è come se avesse quasi soggezione di ostentare la collaborazione o di presentare la collaborazione di figure che comunque stavano serenamente all'interno dell'area del centro-sinistra, ma che probabilmente non erano gradite ad alcuni. Questo è un prezzo che si paga quando tu non dai continuità, almeno di esperienze e di competenze e di conoscenze e vuoi rivoluzionare la squadra. Con la squadra interamente rinnovata, il campionato non si vince mai, non l'ha mai vinto nessuna. Quando divenne sindaco nel 1994, che Alghero trovò? Beh, trovai sicuramente un Alghero migliore di quella che ha ereditato Mario Bruno. Per esempio un altro aspetto che mi permetto di sottolineare, perché alla fine l'ho verificato sul campo, è che io la prima cosa che ho fatto quando mi sono insediato in Comune, a parte il fatto che io venivo da una lunga esperienza amministrativa, io sono stato eletto per la prima volta in Consiglio Comunale nel 1980, dove ho svolto ruoli diversi, ho fatto l'assessore con Enrico Loffredo, sono stato leader dell'opposizione, ho maturato esperienze importanti e sono stato un acerrimo avversario di sindaci democristiani, non ultimo Pino Giorico. Il discorso però è che quando io sono stato eletto sindaco dopo un periodo commissariale e successivamente al sindaco Giorico, la prima cosa che ho fatto sono andato a cercare che cosa mi avevano lasciato in eredità di iniziative, di progetti, i sindaci che mi avevano preceduto. Per esempio l'intervento che io ho predisposto, dando l'incarico a professor Macciocco, che poi ha completamente stravolto l'idea che io gli avevo dato su il complesso di Santa Chiara, è un progetto che almeno come porzione iniziale, come progetto iniziale, ho editato dal sindaco Giorico, assessore ai lavori pubblici Giulio Spano. Era un lavoro che loro avevano contemplato su Santa Chiara all'interno di un finanziamento dell'Interreg 2, che stanziò delle somme per gli spazi espositivi delle città di Olbia, di Porto Torres e di Alghero. Giorico individuò il complesso di Santa Chiara come l'intervento da farsi per recuperare uno spazio, era già stata dismessa come chiesa, la chiesa di Santa Chiara è stata sconsacrata, più attorno ci ruotavano una serie di realtà terribili, il degrado sociale più assoluto, c'era morta gente dentro il complesso delle chiese ospedali e noi lì puntavamo a recuperare l'intero complesso, tant'è che io in collaborazione con i vigili del fuoco emise un'ordinanza per evacuare e liberare completamente l'intera area dell'ospedale civile. Ecco, questo è un segnale, non l'ho mai negato e non perdo i gradi per il fatto che io ho messo in moto quel meccanismo. Quando ho recuperato appieno il forte della Madalenetta, concordando con i calafatti che ormai erano non più operativi, era l'idea di recuperare appieno quello spazio per fare un teatro all'aperto, che era stato già utilizzato in anni precedenti. Vi ricordo che lì, quando ancora faceva ridere, Peppe Grillo ottenne uno degli spettacoli più belli e più coinvolgenti che mai si sia fatto ad allievo. Quello doveva essere. Allora, in questo discorso, come il discorso dell'ex Casermo Umberto I, quello che adesso chiamano Luqualtè, che anche allora è chiamato Luqualtè, però in una logica diversa. Allora, tu devi entrare nel merito delle cose, dare una continuità. Persino l'idea progettuale di Via Garibaldi e della passeggiata a mare nasce da un'idea di Professor Busquet che partecipa a un convegno fatto sul finire degli anni Ottanta sulle città di Male e che rimane lì nel cassetto. Già c'è. Pino Giorico non lo utilizza, non se ne avvale. Io lo recupero come idea, trovo il meccanismo per dare e non nego, capito? Non sono io. Io ho formalizzato solo l'incarico a Professor Busquet. Ma queste erano le cose che bisognava fare. E poi ci sono cose che in quel momento, per esempio, le piste ciclabili. La prima vera e significativa pista ciclabile è quella che parte da Fertilia e va al complesso nuagico di Palmaverde. Quella pista doveva continuare per arrivare sino a Portoconte, alle spiagge di Porticciolo e a Capocaccia. Invece siamo riusciti a fare una pista ciclabile che forse unica in tutta Europa e negata alla ciclistica è quella di Valverde, con tanto di cartelli che vietano alle biciclette di percorrere, finanziata dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea. Cioè sono cose che a volte, quando si vuole cimmiotare, ogni amministrazione ha una vita a sé stante e deve dar conto per quello che fa. Non perché. Io purtroppo ho vissuto l'esperienza, negli anni successivi alla mia esperienza, di essere stato criminalizzato in tutte le cose che avevo messo in moto. Credo che sia stato solo un danno che questa città ha subito, è un torto che questa città ha subito, però ognuno è responsabile delle sue azioni. Allora Mario poteva utilizzare meglio alcune cose del passato, come la pianificazione urbanistica. Noi siamo inchiodati alla primavera del 98 quando io, con una grande determinazione, portai all'attenzione del Consiglio Comunale il piano urbanistico comunale. Il rispetto della legge 45 dell'89, se non mi confondo. Era uno strumento fondamentale per lo sviluppo economico di questa città. Però in questa città, dove si concepisce solo l'idea dell'urbanistica come volumi e metri cubi, è naufraga. Perché tutti siamo convinti di poter ripetere nel tempo la mitica notte dei lunghi pennarelli. Non succederà mai più, anche perché oggi c'è un occhio diverso in termini di attenzioni da parte della Regione. Queste sono cose che purtroppo avvertiamo. E siccome l'accordo non quadra, perché ognuno vuole difendere interessi di parte, ma perché non c'è una visione generale della cosa pubblica. Noi siamo riusciti. Adesso continuiamo a parlare di scuole. Si lancia con il progetto regionale Termini delle scuole. Però noi abbiamo la situazione degli istituti superiori, che è fatta eccezione per il liceo scientifico e per l'istituto industriale. Abbiamo il liceo classico, che è la scuola più antica di Elghero, che non è a norma, perché non ha le aule speciali, non ha gli spazi, non ha una serie di necessità primarie che gli consentono di essere scuole Elghero. L'istituto Alberghiero, che è veramente un'indecenza inserita. Per esempio Mario, perché non si è dato da fare per dar corso a un provvedimento che lui ha firmato con me in consiglio regionale, di mettere in vendita quel caseggiato che è di proprietà della Regione e rivendicare un nuovo edificio scolastico per l'istituto Alberghiero, che è una scuola simbolo per Elghero, come lo era la scuola del Corallo, diventata poi istituto artistico e liceo artistico, però sempre priva di aule speciali, di condizioni speciali che non le consentono di essere una scuola moderna. Stiamo parlando di scuole simbolo di questo territorio, perché la scuola del Corallo era una scuola simbola e poi alla fine ha perso il corso del Corallo, tristamente. L'istituto Alberghiero, che ha diplomato, fiorde di chef stellati, però continua a vivere in una situazione di difficoltà e di disagio. Quando è venuta la ministra Fedeli, qui, tante belle dichiarazioni, però ha seguito qualcosa dopo la visita della Fedeli. Io non credo che si sia mosso nulla per non parlare poi dell'edificio scolastico più prestigioso di Alberghiero in termini di immagini, che sono le scuole vecchie, che sono state mutilate tra l'indifferenza generale, privandole di spazi che sono obbligatori per le già vere, come gli spazi per l'attività motoria e l'attività all'unica. Allora bisogna avere il coraggio di essere conseguenti. Se quello non è più un edificio scolastico idoneo per dare una risposta all'esigenza scolastica, si abbia il coraggio di utilizzare, magari attraverso un piano scuola che poteva essere fatto e andava sollecitato. Un'ultima cosa, però, ti voglio dire, che quando si parla di commercio si parla sempre di bar, ristoranti, locali e suolo pubblico. La vergogna più grande che subisce il commercio ad Alberghiero è lo stato di degrado del mercato civico. Quella è una cosa che non riesco a sopportare, che ho chiesto al sindaco, agli assessori che si sono alternati di metterci rimedio. Una città turistica dovrebbe avere nel mercato civico uno dei primi e puntuali punti di richiamo, perché in tutte le città turistiche i mercati rappresentano un'attrazione di grande importanza e di grande vivacità. Si va lì per primi, tanto più se città turistica di mare, chi va per mare durante l'estate, chi arriva con quelle imbarcazioni che costano un pacco di soldi lunghe non so quanti metri. La prima cosa che fanno quando arrivano in un porto, soprattutto in un porto, vanno al mercato e comprano in primo luogo pesce, verdure e frutta, perché sono le cose. Quelli lì quando navigano in mare, nell'estive, hanno casse di champagne, casse di caviare, casse di scatolami di altissimo pregio, però prodotto fresco, lo trovano quando arrivano e lì arrivano nel mercato civico e cosa trovano? Quell'indecenza, piena zeppa di cassette vecchie, carrelli della Sisa o della Conad, un'indecenza, buio e disorganizzato. Questi sono aspetti che per chi vuole amministrare una città turistica deve tenere in conto per prima cosa. Il suo mannato si esaurì nel 1998, che alghero lasciò? Lasciò intanto un alghero, pulita, che è il vanto di cui mi pregio di più di sottolineare. Avevo ereditato la Saspi e ho affidato alla Slia il nuovo appalto della raccolta di vino. Mi si accusò che c'era un salto di costi eccessivamente elevato, però siamo usciti dall'immondezzaio in cui ci aveva condannato la Slia, che aveva operato di sei mesi in sei mesi in regime di proroga per anni, in una città pulita, profumata e accogliente. Questo. Ho approvato tutti i piani particolareggiati, fatta eccezione per il PUC, il piano del centro storico, che oggi è puntualmente disatteso. Ho detto a Mario, avete sbagliato a non ricostituire l'ufficio del centro storico, perché è uno strumento essenziale, al fianco dei cittadini, sia dei cittadini residenti, sia dei cittadini commercianti, sia di tutti coloro che operano nel centro storico. Ho lasciato il piano approvato delle zone B1 e B2, che subì poi un secondo passaggio in consiglio comunale che riguardava gli abbattimenti. Praticamente il piano è rimasto intatto, però poi alla fine si aggiunse una postilla che a seguito di abbattimento l'aria recuperava il massimo della volumetria prevista dal piano. Ed è il risultato di questa città, che ormai non ha più un'arteria in grado di sopportare il traffico automobilistico e pedonale di questi giorni, che ha un sovraccarico di edificato più di quanto si è consentito, non ha spazi per lo svago e il tempo libero. Non si pensa più a una piazza, non si pensa più a uno slargo, non si pensa più a quegli spazi di vivibilità che oggi sono negati. Non c'è più uno spazio per i giovani, che un tempo trovavano anche nella strada un momento e un'opportunità per aggregarsi ed incontrarsi. Abbiamo approvato il piano particolato delle aree artigianali, che erano tutti strumenti che derivavano dal vecchio piano regolatore generale. Quindi questo. Abbiamo fatto una serie di interventi di opere pubbliche. Il recupero del mercato, l'avvio del recupero del palazzo civico, gli interventi fatti a Fertilia, fatti nelle borgatte. Oggi Fertilia vediamo in che stato si trova. Bisogna avere uno sguardo lungo quando si amministra e non chiuderci all'interno di un recinto stretto. E bisogna soprattutto avere l'umiltà e la pazienza di ascoltare tutte le categorie e non solo quelle che in qualche modo hanno più arroganza nel farsi sentire. E questo è un limite che molte amministrazioni hanno. Ho lasciato un patrimonio di iniziative in campo culturale. Ho lasciato in eredità un rapporto corretto nei confronti della catalanità, che oggi invece è piegata e al servizio di non so chi. E non voglio aprire polemiche di questo genere. Nei suoi anni di mandato c'è qualcosa che ha fatto e della quale in qualche modo si è pentito ed una cosa che non ha avuto tempo o modo di fare? Beh, che ho fatto e mi sono pentito? No. Devo dire, ho lavorato con il massimo dell'impegno che mi era consentito. Mi è mancato il tempo. Sicuramente se avessi avuto un secondo mandato, la possibilità di amministrare il secondo mandato, avrei messo in opera quei progetti che ho avviato dal recupero del complesso dell'ospedale, che è nato per diventare la sede del museo del Corallo e della Civiltà del Mare. E poi è stato impropriamente trasformato in sede della Facoltà di Architettura. Benvenga la Facoltà di Architettura, che era nata all'interno di un progetto che ho lasciato in eredità ai miei successori e che lo hanno ammazzato, che è la Consulta delle Città Storiche del Mediterraneo. Perché la Facoltà di Architettura nasce come idea di una Facoltà del Mediterraneo, ma di interesse mediterraneo. Cioè in questa Facoltà di Architettura dovevano arrivare alunni e docenti di tutta l'area del Mediterraneo, che faceva riferimento a quella che era la Consulta delle Città Storiche. Il progetto è naufragato. Oltretutto, fra l'altro, quello che mi duole di più è che lì avevamo messo in evidenza, attraverso tre campagne di scavi, quella che era la parte più antica e più pregiata della città, che era l'area ebraica. Siamo riusciti a mettere in luce dall'antica sinagoga ai resti delle residenze, della viabilità. Abbiamo recuperato negli scavi stoviglie, supelletti, le testimonianze importanti. E poi quello che si è stati capaci di fare è con la complicità della sovraintendenza, che se sovrintende i monumenti in quel modo è meglio chiuderle, perché non sono utili per il lavoro che fanno. È stato praticamente cementificato, in cemento armato, quel luogo di così alto pregio. E poi si è messo sopra una tarda complassa della giovia. Quella è la tomba, per la seconda volta, espulsa la comunità ebraica, si è messo fine a una testimonianza che poteva creare realmente un grande movimento turistico di tutto quello che esiste oggi in Europa e nel Mediterraneo, così come è accaduto al Qualtè, quando si è cementificato il cimitero della peste, che era una delle più importanti testimonianze di quel momento storico e che ha una rilevanza e interesse di carattere scientifico, oltre che storico e archeologico, sullo studio medico-scientifico di quei momenti drammatici della nostra comunità. Queste sono le cose. Il progetto, io sicuramente sono stato il primo sindaco del primo Comune d'Italia che ha siglato il convegno col Ministero dei Beni Culturali attraverso la sovrintendenza archeologica, dottoressa Fulvia Lo Schiavo, per il passaggio dei beni della sovrintendenza e dei siti archeologici al Comune d'Algheno, sulla quale avevamo lavorato il progetto delle vie di Nure, che era una sede che aveva aperto in via Sassari, una sede centrale dove attraverso il sistema internet si visitavano i siti e poi materialmente si andava a visitarli sul luogo. I siti interessati erano Santupedro, Angelo Ruio, Palmavera e Santimbenia. Sono tutte cose che incominciavano a dare un segnale di cambiamento, però torno a dire e ripeto non ho mai criminalizzato le precedenti amministrazioni, cosa che invece mi è dispiaciuto molto, ho subito, nonostante l'impegno e il lavoro che abbia fatto in quegli anni. Parlando proprio dell'impegno e di tutto quello che ci ha detto, cosa provava e cosa prova quando qualcuno la definisce ora ricorda il sindaco immobile? Beh evidentemente questo qualcuno deve essere sicuramente il malafene, se non ha altri problemi di carattere d'altra natura. Immobile dove? Da una parte mi accusavano di essere troppo mobile perché andavo troppo fuori e quando sono andato fuori però ho sempre tutelato gli interessi di allieo. Sono stato il sindaco e sfido chiunque a mettere in campo, basta andare a guardare che cos'è il piano delle opere pubbliche di quell'amministrazione e delle altre amministrazioni. Siamo l'unica amministrazione che ha fatto un piano scuola con Pino Tilocca per cercare di razionalizzare gli edifici scolastici e metterli a norma. Siamo l'amministrazione che ha rivolto attenzioni serie e vere nei confronti del recupero e agibilità degli impianti sportivi. Abbiamo promosso attività sportive come mai se ne erano viste in questa città, tant'è che il risultato è che la carenza degli impianti, certo che oggi è un problema, oggi non ci sono più risorse, sicuramente io disponevo di molte più risorse di quanto non ne disponga oggi Mario Bruno e i suoi assessori. Però allora le avevamo e le abbiamo messe in campo. Siamo quelli che hanno realizzato dopo più o meno 15 anni il campo con la pista di atletica, che era un progetto nato dalla regione con allora assessore allo sport e alla pubblica istruzione Fausto Farda. Progetto dell'ingegnere Antonio Fruro. Riuscimmo a recuperarne tramite la provincia che aveva ereditato dalla regione quel piano siamo riusciti a realizzarlo e renderlo un rammatico, perché purtroppo non ci sono riuscito perché quell'episodio è stato interessato da problemi giudiziari, che è la piscina coperta, che mi stava particolarmente a cuore, però mi ho trovato dentro un contenzioso dal quale non sono riuscito ad uscirne prima di realizzarla. E purtroppo devo dire che l'attività sportiva che a me stava particolarmente a cuore, che è il nuoto, la pallonuoto e il salvamento, oggi di fatto segna il passo in questa città perché la pallonuoto è praticamente di fatto una cosa estemporanea che si fa casualmente o casualmente i periodisti. Ci puoi raccontare qualcosa di inedito di quando era sindaco? Un fatto che magari non è venuto fuori anche una cosa simpatica? Ma cose simpatiche ne accadevano spesso, nei confronti anche dei rapporti col personale, nei confronti di iniziative che riguardavano a volte il miglior collocamento di qualche dipendente, però entrerei troppo nel personale e quindi sarebbe un po' così, non lo so se sia il caso di dirlo. Però io una cosa posso dirla, anche qui recuperando una cosa che la gente mi riconosce che è nota, che in quegli anni il comune di Alghero parlava in Algherese. Anche chi non era Algherese parlante, però l'atteggiamento della comunità, dei dipendenti, degli amministratori era profondamente legata all'uso dell'Algherese, che io non ho mai imposto a nessuno, sempre. Però mi limitavo ad usare la lingua della mia città nei confronti di tutti e l'ho usata anche in occasioni ufficiali, dal battesimo della nave Alghero o al giuramento della brigata Sassari al Mariotti. Ho sempre utilizzato l'Algherese come lingua per segnare quella che era la nostra identità e un valore identitario molto forte. Abbiamo lanciato i corsi di Algherese nei confronti della scuola, non dimentico mai l'impegno che profuse in quegli anni Carlo De Martis nel gestire non solo l'assessorato ai servizi sociali ma anche l'assessorato alla cultura. Ed era un partecipare. Lanciamo i progetti europei, i progetti europei legati al turismo, Horizon, Totelani, ADAP, coinvolgendo comunità dell'area mediterranea. Oggi mi sembra che non si raccolgano queste cose. Io credo che prima o poi qualcuno farà giustizia e mi riconoscerà. Probabilmente ancora oggi avverto, come dire, la non disponibilità a riconoscere le cose che ho fatto. Ma io ho accettato serenamente il giudizio dell'elettorato nel giugno del 1998. Mi ho preso atto. Ero davvero solo contro tutti e persino contro parte di quelli che mi avrebbero dovuto sostenere nella mia coalizione. Però quella è un'altra storia. È un'altra storia che un giorno magari qualcuno scriverà. Lei è stato un sindaco di sinistra tra due sindaci democristiani. Pino Giorico prima, Tonino Bardino dopo. Com'è cambiata la politica negli ultimi 15 anni ad Alghero, da allora ad adesso? Io posso dirvi che tutto quello che ho fatto in termini di iniziative, di progettualità, aveva sempre una ragione. Dovevamo raggiungere un risultato. Io ho visto, per esempio, Pino Giorico, che sicuramente è stato dipinto da tanti come un cattivo sindaco, molto coso. Io invece riconosco che intanto Giorico aveva amore per Alghero. Probabilmente aveva amori più forti rispetto ad amori più deboli. Però era un uomo che sicuramente voleva bene ad Alghero. Lo faceva a suo modo. Lo faceva pesare. Ti sottolineava le iniziative che lui aveva intrapreso. Io non ho fatto pesare niente a nessuno. Ho cercato di mettere il cittadino sempre nelle condizioni di non dovermi mai dire grazie. Cosa che invece dopo si è ripetuta. Ecco, questo segna per me la differenza tra la mia esperienza amministrativa e altra. Nessuno può dire che è venuto a casa mia a suonare il campanello. In comune però ho ricevuto tutti, nonostante qualcuno dicesse che io non ricevevo. E mi ricordo che un giorno un ragazzo che viveva in margine dalla nostra società entrò in via Colombano e probabilmente riuscendo a passare indifferente arrivò sino all'ufficio del sindaco. Entrò. Buongiorno, buongiorno signor sindaco. Così recuperiamo un episodio. E... non era una ragazza. Ma posso venire? Posso entrare? Ma certo, vieni, vieni. Quando si avvicinò alla mia cattedra mi disse. E dicono che lei non riceve nessuno. Si ha ricevuto persino a me. Questo era comunque un aspetto che la gente non coglieva. Perché la gente non è che non venisse ricevuta da me. E che da me pretendeva comunque. Ascolto e soddisfazione di quello che mi chiedeva. E che non poteva ottenere. Se posso dire una cosa. Ho difeso a spada tratta l'applicazione delle regole. Nei confronti di amici e di nemici. Avversari politici e nemici politici a cui spettavo una concessione di lizia o un'autorizzazione gli veniva concessa. E nessuno può dire che io non glielo data. Se non glielo data vuol dire che le norme e i regolamenti non lo prevedevano. Così come ho perso, diciamo, delle amicizie. Con la scusa. Ma io te votati tu non lascia. Perché? Ma se il sindaco vuole, può. Ma il sindaco non vuole. Perché il sindaco vuole applicare le norme. E di questo me ne faccio un vanto. E poi siamo andati come siamo andati. Le campagne elettorali sono sempre uguali? No. Io devo dire che non ricordo una campagna elettorale fatta come quella che feci io nel 94. Io nel 94 ero, come dire, fuori dal recinto. Perché io ero il leader di Saldegna di Baltate. Saldegna di Baltate aveva sempre un consigliere comunale. Però se vado a rileggere la militanza, l'azione, l'attività politica di denuncia, guarda che non abbiamo denunciato mai nessuno con cattiveria. Però abusi edilizi, concessioni, soprusi, assunzioni, li abbiamo sempre denunciati con fermezza. E quando qualcuno è stato in qualche modo condannato non ho gioito. Anzi, per alcuni aspetti mi è anche dispiaciuto. Però era l'unico modo per alzare un vessillo di legalità in una città in cui la legalità soffriva. C'erano troppe attenzioni particolari. E io credo di aver vinto nel 94 sicuramente perché sono riuscito a dare questo segnale che io rappresentavo il cambiamento. Il cambiamento c'è stato. Ricordatevi che nel marzo del 94 al Parlamento vinse a mani basse Forza Italia. Io ero dato per spacciato e il PDS accettò la mia candidatura perché loro davano per scontato che avrebbe rivinto Forza Italia. E voi sapete che il risultato fu tutt'altro. Credo che mai nessun sindaco sia arrivato a quelle percentuali di voto. Ed ero, come dire, il condottiero di quell'idea, di quel progetto. Nel 98 ci fu una valanda poi di infamie, di accuse che poi ho dovuto sbrogliare in dieci anni di vicende giudiziarie, del quale ogni volta che ho l'occasione, ripeto, ne sono uscito a testa alta dopo aver rinunciato alla prescrizione. Tutti pretendendo la sentenza nel merito. Perché quella era una montatura di accuse infamanti, di lettere false, di lettere anonime, di accuse che costruivano castelli che non c'erano. Qualcosa mi è dispiaciuto, per esempio il fallimento di Monterricio e sarebbe stata una grande opportunità. Io credo che un esempio di quello che poteva farsi a Monterricio ce l'abbia dato Angelo Scognamillo con quel complesso che ha lì sulla strada, che è molto più piccolo. Monterricio poteva rappresentare una cosa più grande. Mi dispiace la non approvazione della notizzazione Calabona, perché lì si è voluto far pagare un prezzo alto a Giancarlo Scognamillo, che non era un protagonista della notizzazione Calabona. Portò il suo nome. Ma come può succedere di là la notizzazione Burruni e più, solo perché si dà il nome di uno dei 20, dei 30 lotizzanti. Fra l'altro in quella notizzazione Calabona c'è ancora una proprietà del Comune. Io credo che la città abbia pagato in termini di sviluppo economico e di occupazione un prezzo alto. E mi è dispiaciuto soprattutto però non aver realizzato la possibilità di acquisire al patrimonio comunale con un'operazione regolarissima approvata dal Consiglio Comunale della proprietà dell'immobiliare Toros della Banca di Sassari tra Via Catalogna e Via la Marmora. Quello era un complesso straordinario, ma che con una cattiveria inaudita si è cercato di demolizzare. E oggi il risultato è che il Comune ha pagato un prezzo alto, non per responsabilità della mia amministrazione che l'aveva acquistato in un momento di necessità da parte della Banca di Sassari, quindi a prezzi convenienti. E poi è finito chi ha pagato molto di più senza avere il bene, perché il bene è ritornato nella proprietà della Banca di Sassari e oggi Banco di Sardegna. Queste cose sono, quindi l'aria era diversa e quando la campagna elettorale, per tornare alla domanda iniziale, non ha dietro quella spinta di partecipazione, di convinzione di vari strati della società algerese, perché io non so, conosco alcuni, ma la gran parte della gente che mi sostende in quel momento. Io non la conoscevo, probabilmente non ho mai avuto neanche rapporti. È gente che mi ha votato per fiducia e per stima, anche per un trascorso in Consiglio Comunale importante e presente. Ai tempi di quella campagna elettorale si ricorda un momento nel quale ha capito che sarebbe potuto diventare sindaco e se invece c'è stato un momento nel quale ha detto no, non ce la faccio. Beh, sono andato in campagna elettorale, ho capito, dopo il primo turno. Allora a quel momento era in vantaggio, già e capivo che ormai il vento soffiava a gonfie vele al nostro sostegno, però ci ho creduto sino in fondo. Non mi sono risparmiato il niente in quella campagna elettorale e tutti quelli che mi stavano attorno si sono impegnati allo spasimo per sostenere quell'idea. E l'idea era che si poteva battere Forza Italia. Cioè l'obiettivo era quello, riuscire a sconfiggere Forza Italia. Sapevamo che non avevamo le stesse risorse, sapevamo che non avevamo, come dire, attorno figure. Fu una campagna elettorale giocata senza leader, mentre invece Forza Italia schierava i leader. E questo faceva parire. Però probabilmente questi aspetti hanno giocato più a mio favore che non a favore degli avversari. Ricordatevi che quando io decisi di candidarmi, era già nell'aria, ma noi proponemmo al PDS la mia candidatura e il PDS era un po' tentennante, il Partito Popolare aveva candidato Martino Loreto e qualcuno mi diceva, Carlo Se ritirati perché se si candida Martino Loreto non ce n'è per nessuno. E ci vedremo. Comunque raggiungeremo un risultato che ci continuerà di rimanere in Consiglio Comunale e continuare le battaglie di sempre. Non mi ha fatto perdere la serenità nel buon umore. Però io credo che la determinazione e la convinzione con cui facemmo quella campagna elettorale ci aiutò in un modo straordinario. Chiudiamo questa intervista con un consiglio o con un augurio agli algheresi. Gli algheresi in primo luogo devono impegnarsi e battagliare di più. Non si delega alla ceca, non si vota col fegato e non si sostiene col fegato nessuno. Bisogna avere l'equilibrio di scegliere, e non dico il sindaco, di scegliere la squadra. Per esempio una cosa che i sindaci ormai hanno preso l'abitudine di non fare è quella di non schierare la giunta prima del ballottaggio almeno. Io la schierai prima del primo turno e mantenni fede a non solo individuando gli uomini, ma indicando gli uomini e individuando uomo per uomo le delega che avrei affidato loro. Questo è fondamentale perché se un sindaco poi si avvale di mezza cartucce, come sta succedendo sempre più, non è in grado di portare avanti un'azione amministrativa convincente. Deve avere uomini capaci. Il discorso del vecchio, io ne prendo atto, ormai mi sono serenamente messo in disparte, però non esiste da nessuna parte. Qui io non devo scendere in campo a giocare a pallone o a pallannuoto. Quella è un'attività che ho smesso quando le condizioni fisiche me l'hanno impedito, ma qui dobbiamo amministrare con saggezza una città e una comunità. Dobbiamo tessere una rete di relazioni con le varie realtà che operano in questa città e con le città vicine, con le altre istituzioni, con la regione. Noi dobbiamo creare una squadra e individuare una squadra che abbia voglia e capacità e deve conoscere, come ho detto però all'inizio, la città e le varie componenti della cittadinanza. Senza questo non vai da nessuna parte. Non ci si improvvisa amministratori, come non ci si improvvisa il niente. Il tifoso, il super tifoso, se scende in campo, facci lecca, capito? E quindi non è sufficiente dire io so, io conosco, devi dimostrarlo e magari deve avere l'equilibrio di andare a pescare nelle pieghe della società dove ci sono tante figure che hanno capacità, competenze e voglia di lavorare altruisticamente, generosamente per la loro città. Questo io vedo un pezzo che non lo vedo. Grazie. Grazie.